la situazione è stata troppa fatta e quindi adesso non ne vanno con la colorazione di angeli e la stabilità si parla. Francesco fare passavanti, sei partito bene, avrei anche te, e con il diritto mi sei fatto fregare della tua situazione, la scoffo c'era la possibilità era questa la tua seconda possibilità, mi dispiace, non c'è tantissima sola cosa non è? Per me apprendosto qui a livello. Grazie. 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 Grazie.